aaaah aperto non c'è una serie vediamo la porta andiamo in giro qui nulla percorriamo di nuovo angusti corridoi arriviamo che giro sto facendo qui c'era qualcosa da prendere per carità ci fosse qualcosa di utile eh che ho preso ho un kit da fabbro da fabbramento che non emette suono puttana c'è il kit da fabbro forse posso rompere i cavi o arrostire gli alieni vedremo si task completata andiamo a cercare l'elicottero dove vado ma da quanta è brutta sta luce però si si tutti i rumori che volete si è stancato può correre per poco cammina lentamente qui c'è sto cazzo di di gas allora saliamo di qui e qui c'è l'elicottero adesso se io equipaggiassi il kit da saldatore no? porca vacca ti sgarrupo come no? ma dai ma cos'è sta fiammella poi che non fa nulla che fa? si sporge allora chi è? qui c'era la telecamera che poi dava l'allarme fermi tutti fermati per carità chi è? eeeh un'altra eeeh dai però ma non è vero che mi vedi sono dietro a un muro eeeh signora telecamera eeeh 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 ma visto va bene allora quest'area è altamente presidiata qui posso entrare senza che qualcosa mi mangi la faccia no ste cazzo di telecamere salve lei mi vede dall'oblo non mi vede dall'oblo eeeh scusi no non mi vede dall'oblo e io scappo e io scappo oh new objective vai ma fammi leggere restore power ce l'ho il fuse ma mettilo trackete eeeh poi lo saldo on e posso accedere a questa porta di massima sicurezza non si accende un cazzo non si accende eeeh addirittura ma mamma mia con quale texture niente 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 tollo allarme via radio prendo una tazza ma se famo un goccio madonna quanto audio però quanto eeeh eeeh no dai che mi vede per carità e dai però girati che palle eeeh ma vaffanculo ma vai a cacare e ti stacco il fusibile non posso aspetta se io attacco la corrente la telecamera si gira di qua no però c'è dell'audio allora la corrente è attaccata e sembra che la telecamera si la telecamera viene puntata qui io invece la stacco chiudo la porta e posso andare via indisturbato ma posso lanciarmi dal parapetto no qui c'è sta cazzo di telecamera allora aspetta facciamo facciamo ognuno scherzone alla telecamera ti faccio uno scherzone ti faccio tiro questa scappo via e se 2 più 2 fa 17 tu rimani bloccata a sinistra putt maldai allora che palle eeeh ce n'è una qui surveillance camera fanculo ah gli tiro gli tiro un bicchiere porca troia ma ma allora eh ma ma basta prendi puttana cazzo si lancia un bicchiere ma dai ma l'ha tirato ma è matto apri 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 vai via ma chiudi 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 zitta mi chiudo anche dentro così se dovesse arrivare qualcosa sono bello che fottuto prendo un'altra tazza c'è una luce rossa e c'è un errore grafico che bello eh e mi giro e compare mi giro c'è c'è più c'è non c'è oh vabbè eeeh con quanta violenza ma basta telecamere per pietà ponte ponente ponte p taffè taffè rugli chi è io lo so che ci sei eccoti ti ho visto imbecille ma io scappo e qui c'è un fusibile porca troia ma dai ma cos'è ma basta ma per carità del signor che è grazie ma posso scappare ma scappa ma dai di porco di porco però che c'è che c'è